Ciao a tutti ragazzi, bentornate sul mio canale! Oggi siamo durata con una nuova challenge insieme a lei. Purtroppo è tornata, proprio io non la volevo riprendere, volevo lasciatela su, per amore non ti riparte. Vado da nonna, perché nonna mi accoglie gentilmente. Ok, basta dita. Dopo questa, un attimo, un momento di felicità. Sto morendo di caldo, non potete capire. Se accendiamo il ventilatore si sente il rumore, quindi non possiamo accenderlo. Per cui, moriamo per questi dieci minuti. La challenge di oggi è la Emoji Challenge. Lei mi ha stressato la vita per farla. E se ti vanno a che io la facciamo, la facciamo. Ma pure la prima, però prima non è il momento. Non è il momento, invece adesso, vabbè, dai, si può fare. Soltanto che una volta non c'ero io, una volta non c'ero lei, una volta non c'ho avuto tempo, una volta non me ne è andata. Ok, oggi è arrivato il momento. Quindi iniziamo. Inizio io, questa è semplicissima, eh. Qual è l'occhiolino? Sì, è quella, ti ho detto che era semplice. No, vabbè. Ok. Vai, la mia. Lo guardarla bene. Ok. Ma quale sarebbe? No, fermati. Rivala un po'. Eh, non già tu ti... Stai piangendo? No. Stai andando un cazzotto. La mano non ce l'aveva proprio, infatti io lo devo tenere più forza. È quello... Con questo qua. Sì, questo. Brava. Ah, innanzitutto, sì, ma è questo qui, ragazzi. Vabbè, o... Se mai. Il cappello o... Un attimo così e l'altro, cioè, almeno... Questo cos'è? Guarda, ci vuole una mente come me per indossare. Troppo, guarda, la mente c'hai... Non ti tolgo la pizza, va. Adesso lo ha a cammino. Con la gocciolina qui. Mi sa ride. Eh? Con la gocciolina qui che piange. Che piange. Fai un po'. Impaurite con la gocciolina che ti taglia. Ma mi ha un po' vedere, perché magari è stato andato a capire un'altra, invece è un'altra ancora. E senza le odio. Adesso cerchiamola, perché qui è un po' un casino, eh. Non mi guarda con sta faccia, perché mi vieni nervoso. Questa? Sì. E l'hai indovinata, perché era? Questa qui. Ok. Ah, va bene, l'hai indovinata. Quella di prima però non me l'hai fatta vedere, eh. Ha bello occhiolino. Si sa, l'occhiolino. Ok, dove era quella di prima? Forse invece... Ah, eccola, quella di prima. Di prima, di prima. Questa? Sì, dai. Ok. Capito, no? Un attimo, non ritrovo la cosa. Ragazzi, che sorella. Io mi stupisco di me. Ah, non ti ho mai una faccia? Scusa, guardo qui perché... Non è molto semplice. È quella che si rizza sempre. Questa qua. Sì. Ah, è indovinata. L'ho indovinata. Vabbè, questa qui è al centro. Ma sta tipo azitta. Mi ha un guancetto grosso. Ok. Oh, ti arrivo al giorno, secondo me... Non c'è stato il guancetto, però vabbè. Aspetta, stavo provando la bocca. Non l'ho visto. Meglio per fare. Quella così. Oh, che caccao. Ottimo, non abbiamo tenuto i conti. Beh, beh, ho accettato sempre. Allora, scusate, bello un po' di marina, eh. Mi scasco a casa. Allora, l'occhiolino... L'hai indovinato tu? Sì. Poi l'altra? Quale hai fatto tu? Quella... Lampada. Lampada. Vabbè, l'avete capito. Ho indovinato io. Poi? Scusa, stiamo a tre... due. Perché ti scrivi così, scusa? E zitta, lascia perdere. Cosa qui? Ansia. Vabbè, non è ansia, però. Uno grey l'ho eliminato. Poi adesso che hai fatto? Ancora lo devo fare. Io ora ho fatto un'altra, già, veramente. Eh, non me l'hai fatta vedere, però. Ho fatto questa qua. Ah, questa. Tu quale hai fatto? Prima ho fatto... Ah, questa qui. Ok. Quindi siamo, uno, due. Io sto, Greta sta a tre, perché a noi l'altro io sto a due. Perfetto, adesso... Allora, allora. Quale era quella che volevo fare? Incazzata. Ma come? Eh, quella rossa. No. Ma... Eh, quell'altra. Mo se l'hai tirata, ragazzi. Ecco, quella rossa. Tirata. Ma tu dimmi, le stesse immagini, non c'è il colore. E sono uguali queste due? Sì, che cosa si vede? Tu dimmi. Guarda, guarda, adesso ci penso del mio telefonino. Sono uguali queste due? E, guarda, adesso ci penso io, ragazze. Sono uguali? Sì, in fondo è la stessa emoji. Eh, però no. È rossa questa. Guarda, vedete che non lo sopporto, vedete? Ok, perfetto. Arriviamo a sette. Ok, arriviamo a sette. C'è un soffo, papà? No, guarda, è questa. Vedo. Allora, è questa. Ah, mi scelgo la mia. Ma va, eppure mi sa... Ok, ce l'ho. Ce l'ho. Quella con la lingua di fuori. Eh, ce ne sono tutte le con la lingua di fuori. Per cui. Che fai? Ah, è la mia volta. Dai, lo perdo del tempo! Non è di queste tre? E dai, su! Oh, che cazzo. Oh. Che ne so qual è. Hai tre? Hai due? Questa. Sbagliato. Qual era, questa? Questa. Ma, non vabbè, mu? Le ce l'ho fatta. Allora, siccome non ce l'ho io queste emoji qui, come vi faccio? Sarebbe... Aspettate, no? Vabbè, avrei lasciato. Questa qua. Perfetto. Siamo facendo delle treci con le mani. Quindi stiamo a... Adesso su questo non... Tre a tre! Ma questa, sicuramente, non la indovini. Ah, Gemma, già ho capito, quale va? No. Già, ho capito, quale? No, vabbè. È cazzo oro. Eh, ma con gli occhiali. Vabbè, ho capito. Eh, vabbè. Però almeno... Eccola qua. Ah, però dovevo mettermi in questi. È importante, ragazzi. Dovevo mettermi in questi. Vai, cammina, vai, cammina. Sì. Tocca a te, non cammina. Cammina chi? Ok, prossima emosi per me. Cos'è? Vabbè, basta. Ah, con l'occhiolino. L'occhiolino è trovato a prima. Quante volte te la faccio? 16? Eh. Che è? Scusa. Ma io venendo l'occhio non mi sembra di averlo chiuso. Sì, dai, rifallo. La bocca è il fatto. Non la indovinerà mai. Senti qua, Gitta, non porto la siga. 5 secondi, eh? Eh, vabbè, oh. 4. Eh, vabbè, non ho capito. Stai perdendo 3, 2, 1. Passi già. È questa? 3. Questa è quella? No. Sì, è un po' zicca, mi ha bruciato pure l'occhio e mi ha secco un dito nell'orso. 3 a 5. A 7? Era questa. Buono, buono, buono. Questa qui. Vabbè, avete capito, a posto. Eh, dai, Gry. Sì, te ne voglio fare una, però non so come farla. Si caricano. Cosa è questa? Eh! Sto girandola. La faccina di prima è la cacca, ma comunque non è la faccina, perché non è rotonda. E vabbè, oh. Spiegata. Allora, guarda, l'ultima faccina per te non abbiamo assetto. Facciamo, l'ultima faccina per te, giusto per recuperare un punto, ma comunque ho vinto sempre io. Senti, importante. Allora, senti. Per favore. Dai, forza. Sto sciogliendo, non riesco neanche a trovare la faccina. Tanto l'andovini non me la sento. Davvero l'andovini? Va bene. Poi, ci posso poter l'andovini subito. Però mi devo alzare per falla. Alzate. Credo che si va così, eh. Perché pure credo, capito. Eh, non l'ho trovata, ma è quella che mi hanno in mente. Ora, ora l'ha trovata. Eh, ora, non me la ricordo. 6 ore per farla. Non si vede niente. Scusa. Posso vedere almeno? Sì, vai. Grazie, eh. Grazie. Prego. Guarda che dorme. Ha vinto. Grazie, grazie. Ho vinto, io ho vinto, io ho vinto. Ho vinto, vinto, vinto. 3 a 6. Basta, ho vinto. Dovremmo arrivare a 7 comunque. Ho detto che finirà lì, il punte. Tanto vincerei. Vabbè, ci vede pure lui, però. Intanto sarò a 4. Ho vinto io, punte. Basta, stop. Non poi niente. E niente ragazzi, il video finisce qua. Se vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollice in su. Pollice in su. Con giusto una fazzina. E noi vi vediamo in basone. Ci vediamo al prossimo video. E finiamo il video con un emoji.